Praticamente di un argomento che è caro a tutti perché è il primo che affrontano tutti i pazienti prima di andarsi a curare, ma non solo all'estero, anche in Italia da qualsiasi dentista. La prima cosa che si fa quando si ha un problema e si scopre di avere un problema o almeno si pensa di avere un problema è fare una visita da un dentista, da uno specialista oppure la stessa cosa è l'automobile, quando magari c'è un guasto all'automobile che cerchi di capire se innanzitutto c'è qualcosa che non va e poi che cosa è che non va. Dopodiché la fase successiva qual è? Andare a capire quanto spendi per risolverlo se c'è il problema. Allora quello che succede a un certo punto è che chiaramente il conflitto di interessi che c'è in sanità, che ieri parlavamo per esempio sul gruppo Società, vado su Facebook, e proprio il fatto se il dentista debba essere o meno pagato dal malato oppure se debba essere pagato piuttosto dallo Stato. Nella Cina era così, si pagava il dottore per stare bene, non si paga il dottore se si sta male. E poi la domanda è chi paga il dottore, lo Stato o il malato deve pagarlo? Dovrebbe essere pagato dallo Stato. Allora quello che succede è che in un sistema privato una persona non è messa nelle condizioni di fare la prevenzione e quindi si ammala, arriva in degli stadi di malattia come quello di Roberto, non diremmo chi è, è Roberto, questa è una persona che ha avuto dei grossi problemi di parodontite in stadi avanzato, è arrivata da noi la richiesta nel 2017, parliamo di diversi anni fa, già tre anni fa, è uno Stato di malattia questo avanzato, o non diagnosticato, ma dubito perché comunque il medico lo aveva già visto, quindi se lo ha visto aveva già dovuto fare una diagnosi che qua c'era un problema. La cura che è stata fatta era una cura non risolutiva, ma un tamponare perché è stata messa cosa? Una protesi in resina ancorata qua su dei binari su una protesi fissa, ovvero un classico ponte che regge uno scheletrato, una protesi che si mette e si toglie. Qua sotto era stato fatto un ponte, tra l'altro utilizzando un dente molto posteriore mal curato che ha sviluppato qua granuloma, si vede questo filo non arriva sino alla fine, non arrivando sino alla fine qua rimangono batteri, si crea granuloma, vai a perdere il ponte. Dall'altro lato non c'erano più denti, questo dente è iniziato a venire giù perché sicuramente la protesi qua o poggiava o agganciava su questo dente, mastica oggi, mastica domani, inizia a venire via. Questa è una classica persona che aveva un problema che è stato, come dire, non è stato preso il toro per le corno che risolviamo, blocchiamo subito la malattia. Si è fatta andare avanti la malattia, negli anni perdi un pezzo, un altro pezzo, un altro pezzo, aggiungi i denti artificiali, fai la protesi più larga sino arrivare poi alla perdita totale dei denti. E in tutta questa storia il paziente ha la percezione che non ha mai curato realmente, che non aveva mai risolto, ma che ha solamente speso soldi. Ha solamente speso soldi e alla fine ha perso che cosa? La fiducia verso il medico, che dovrebbe essere la prima persona invece di cui hai fiducia. È come quando io vado, che ne so, dal commercialista, anche a me è capitato, perché io ho perso fiducia nei commercialisti. Vai lì, ti dice, poi alla fine non ti risolve, sembra Dracula che ti continua a succhiare il sangue, però poi non risolvi nulla. E allora poi vai da un altro. E quello rinizia, vede se è quello che ha fatto prima, ha fatto bene. E allora guarda ti ha omesso la dichiarazione di questo, di quest'altro e devi ripagare altre cose. È uguale, è la stessa cosa. Magari la stessa cosa può succedere con l'automobile. Ok? Ho portato l'automobile ad aggiustare, la riprendo e iniziano i problemi. Guardo il paraurti, è diverso il paraurti, non è quello che gli avevo portato prima. E c'avevo la macchina magari incomodato d'uso per tre settimane. La macchina era ferma lì che stavano sostituendo i pezzi, per rivenderli magari. Ok? Quello è il conflitto di interessi che c'è dentro a molte professioni. Nel senso che quando il sistema è privato c'è il rischio che non si fa l'interesse del paziente, ma si fa magari l'interesse dei propri conti a fine mese, dell'EMPAN, delle tasse, delle cartelle esattoriali che devi pagare tutti i dipendenti e alla fine ti conviene che cosa? Il malatto ti conviene invece che il sano. Allora quello che succede? Il risultato di un sistema come questo è quello che vedete qua su questo banco. Che una persona inizia a documentarsi perché dice qua mi devo prendere la laurea io? Perché se no non esco fuori. Continuo a stare dentro alla spirale. A questa spirale non se ne esce più. Allora cosa fai? Inizi. Chiaramente non hai la ricetta per uscire fuori dalla spirale. Ok? Perché non sei chiaramente laureato, non puoi fare in sei mesi un corso di laurea. Però mediamente chi ci sta dentro alla malattia per vent'anni alla fine c'ha quasi la laurea. Sa cos'è una devitalizzazione, sa cos'è un ponte, sa cos'è una protesi mobile, sa cos'è la piorrea, sa cosa vuol dire estrarre i denti, sa cosa vuol dire magari far guarire le ferite in bocca. Magari non gli ha studiate ma gli ha provate le cose. Quando inizia a essere molto col pelo sullo stomaco inizia anche a diffidare di certe cose che gli vengono proposte. E questo è l'ennesimo che mi sta proponendo la cosa mobile, la cosa in plastica. La protesi rimovibile, la semifissa ma non risolvo. Allora inizia che cosa? In maniera può prendere due strade. La prima strada, senti non voglio sapere nulla, vado in stand by modalità risparmio energetico, di lui mi fido, mi risolverà il problema. Ok? Capita spesso questo. L'altra, e quindi allora si basa solamente sul prezzo meno basso, più basso, su quello che è un po' più vicino, un po' più comodo, prende altri elementi di valutazione che non sono elementi poi decisivi in realtà per la qualità del lavoro. Oppure c'è l'altra che si inizia a documentare, inizia allora la comparazione più tecnica. In genere quelli sono i pazienti migliori che sono quelli che prima di acquistare qualcosa o un servizio vanno e testano. Proprio di persona vado, faccio una visita, c'era da poco la settimana scorsa, fondatore qua di un grosso franchising che c'è in Italia, che sta crescendo, lui è venuto mesi fa solamente per testarci, per vedere, è venuto, è stato qua due, tre giorni, poi dopo tre, quattro mesi è tornato, perché era stanco di prendere fregature. Quella è stata una persona molto analittica che si è preso il tempo però per evitare di buttare due anni di tempo, non soldi tanto, ma proprio a livello biologico di dover ristare in ballo, perché non se lo poteva permettere. Ha detto mi investo due o tre giorni, vado a vedere la realtà. Ha fatto domande specifiche, tecniche, voleva vedere il processo di produzione dei denti, è stato con noi in laboratorio. Insomma, alla fine poi ci ha fatto anche un report, dei complimenti, ci ha dato anche delle buone idee, tipo aprire dei point nei centri commerciali in Italia, oppure negli aeroporti d'Italia, di aprire dei punti informativi solamente, brochure, libro, DVD, film, informativi, è una buona idea, dei punti informativi dove dai delle informazioni solamente. Come avete presente i punti… dove è Carugate? dove è Carugate? preventivi. Ve li passo, ok, ve li giro. Questo è il primo, Clinica Croata, gli fa un preventivo da 5.083 euro. Croazia. Poi c'è il rischio che va in Albania. Poi c'è il rischio che va in Albania. E ci arriviamo a quello. Poi il gioco è proprio questo, cercare di capire quali sono le differenze tra i preventivi. Questo è 10.000, è il doppio di quello il preventivo, però è strano perché l'Albania costa meno della Croazia. Come può essere invece in Albania il doppio il prezzo? Qualcosa non torna. Poi c'è, vediamo un altro, questa è Moldavia, 6.100, la Moldavia più economica dell'Albania costa meno, costa di più, scusate quello. Andiamo di nuovo in Croazia e si passa dai 10.000 di quella clinica ai 5.000 euro di quest'altra clinica. Attenzione perché c'è poi lo studio, quest'altro, 4.500 euro. Ho arcata? Ah, ecco, c'è questo, ti fanno qua diverse soluzioni, protesi mobile, protesi fissa. Questi hanno almeno specificato, e qua c'hai un qualcosa di mobile, qua invece qualcosa di fisso. Protesi fissa è come dire, ti mettiamo i denti fissi, ok, ma come? Sì, esatto. Non dice nulla, ok. Fate attenzione perché qua c'è, e lo vedremo dopo, impianto, ponte in 12 denti in metallo ceramica. Impianti ne hanno previsti 2. Quanti impianti hai sotto ora? 15. Hai in tutta la bocca 15. 16, uno che ha rigetto, quindi hai 7 impianti sotto. No, 8 sopra e 7 sotto. Loro prevedevano qua di mettere solo due impianti sotto. Questo lo giriamo. Poi ci abbiamo. Questa persona ha fatto tutto questo? Sì, sempre lui. Attenzione, torniamo in Albania. In Albania 8.400 euro. 8.400 euro. Poi ce n'è un altro, questo qua è della, sta vicino qua questa clinica, 5.900 e un altro dai 6.800. Anestesia, corona metallo ceramica su impianto, quantità 18. I conti non tornano. Pianti dentali 11. Questi ti fanno pagare anche la sutura chirurgica. I punti che ti mettono ci hanno un costo qua. 8. Ecco qua. Cioè qua, questo preventivo qua parla di sutura chirurgica, quantità 8 suture chirurgiche. Ma che ne sai di quanti punti dovrà mettere? Non lo sai quanto è lungo il taglio che fai, dalla radiografia non lo vedi. Ok. C'è quest'altro. Questo è dalla Serbia. Ok. Dalla Serbia. Dalla Serbia totale arcata. Ecco, un altro modo per abbassare il prezzo totale è quello di dividere il costo tra arcata superiore e arcata inferiore. Oppure fare due preventivi. Il preventivo per il primo viaggio e poi quello per il secondo viaggio. E magari lo tiri fuori dal cilindro dopo quello. Capito? Quello è un altro stratagemma. Questo è 11.000 in Serbia. Non facciamo i nomi dei perché chiaramente non sappiamo dove vanno a finire questi video. Questo qua invece totale 7.900 euro. Questo è Bucarest. Di questi abbiamo curato molti pazienti. ricurati. Molti, molti. Perché quelli ci hanno fatto molta pubblicità in Sardegna, sono arrivati molti pazienti là e gli hanno... Sì. Ce n'è un paziente proprio da poco che è venuto con tutti gli abatment, comprati in una ditta apposita, l'hanno bloccato poi in Dogana perché gli hanno detto ma che fai traffico di materiali odontoiatrici? Perché aveva molti pezzi per poter rimettere mano a quel caso. No, non si può parlare di questo. Ci denunciano qua. Non si può. Abbiamo poi questa altra clinica. Questa è una clinica che ha rebrandizzato. Rebrandizzato significa che ha dovuto cambiare nome. La conosco personalmente quella clinica perché quando andai nel 2012 o 11, non mi ricordo, non avevo più trovato quella clinica ma c'era questa con un altro nome. E poi mi avevano spiegato che aveva ribrandizzato per problemi di reputazione. Gli avevano lasciato un sacco di recensioni negative e aveva ricambiato, ha cambiato nome per poter continuare a lavorare. Quindi fate molta attenzione anche alle ribrandizzazioni. Questa invece è un'altra clinica croata. Un'altra clinica croata è 11 mila, no scusate questa è albanese, 11 mila 150. Allora supponi che io ti faccio, ti do tutti questi preventivi una sera a casa, io sono sicuro che qua nessuno di voi riuscirebbe a dirmi chi è che lavora meglio. Figurati se sai chi è che ti fa le cose adatte a quello che devi fare. Probabile che l'approccio è sbagliato. Ok, l'approccio di comparazione, di raccolta dati massiva, ovvero mando una richiesta a 200 cliniche, è un approccio sbagliato quello. E ve lo dico semplicemente perché andiamo su una pagina che vi faccio vedere adesso. Allora, andiamo qua, anzi andiamo direttamente qua. Libro 2013, quello che avevo scritto nel 2013, eccolo qua. ok. Andiamo sugli allegati. Questi sono tutti i parametri che nel 2013 avevo preso in considerazione quando avevo fatto lo studio, insomma prima di realizzare il policlinico, vi ho raccontato tutto un lungo viaggio fatto per un paio d'anni. Iniziato 2011, 2012, poi 2013 ho messo tutto per iscritto. Ok, assieme a più di 100 cliniche che già curavano i pazienti, avevo raccolto tutti quelli che erano i parametri, sicurezza, rimborsi, garanzie, qualità lavorativa vera e propria, microscopio, tacchi in sede, collegamenti, connessioni, quanti viaggi saranno necessari per finire le cure, collegamento aereo, c'è o non c'è? Quello è un fattore determinante da prendere in considerazione perché sennò entri dentro una spirale poi dopo in caso di problemi. È importante avere l'assistenza dopo le cure, se ti curi all'estero, se ti curi sotto casa ce l'hai l'assistenza. Poi farmacia in sede o vicino alla sede, è importante, condizioni dell'alloggio, tac, disponibilità della sedazione cosciente, utilizzo articolatori, questo è fondamentale ma è una cosa che voi non prendete in considerazione. Per fare le protesi, i simulatori, non è una cosa ovvia, non tutte le cliniche utilizzano gli articolatori a parametri individuali o semi-individuali, usano gli occlusori. Che sono le visure che ti prendono? È una forchetta, un apparecchietto, ci ho fatto un video i giorni scorsi. No, no, mi dico la taratura dell'articolatore è fatta con le visure che prendono il poltrono? Fanno l'impronta ma prendono poi anche l'arco facciale che si attacca sul viso che ti fa avere un'idea di quelle che sono le dimensioni proprio della bocca da ricostruire. Quando noi arriviamo a un lavoro definitivo come questo, questo era lo stadio iniziale, è tipo lo stadio suo, era uno stadio simile, mancano altri denti però vedete che siamo allo stesso livello, mancano quasi tutti i denti, dobbiamo non solamente rimettere gli impianti, andare a fabbricare questi soprovisori, spegniamoli la luce, questa è la parrucca, abbiamo fatto prima di mettere i definitivi prima una parrucca, facciamo un test, vedete che questi sono dei denti stampati, qua si vedono i segni della stampa, strato dopo strato, ma andiamo soprattutto a simulare quelli che sono i movimenti, prima di andare con i definitivi, poi si parte con la produzione della linea definitiva e la linea definitiva, questa è la linea superior, concettualmente ce l'avete lì sul tavolo, quel modellino là lo potete passare, questa qua è la linea superior, questo è il concept, uno dei primi concept che abbiamo fatto quando stavo studiando proprio come fare la linea superior con gli odontotecnici e c'è all'interno la barra di rinforzo, la struttura in pecton esterna e poi la zirconia sopra, queste sono invece corone in resina perché sono i test per vedere come va in bocca, poi se quelle vanno bene le fresiamo in zirconio, questi qua sono i denti, però i denti devono lavorare in dinamica, la bocca non è ferma, si muove la bocca, se si muove significa che i denti urtano tra di loro ogni giorno, 3000 volte al giorno urtano e se io non vado a studiare quello che deve essere il percorso che l'aereo deve fare a seconda delle montagne che ho, non so se i denti magari reggeranno oppure no e quelli sono problemi dovuti all'articolazione, l'articolazione della dentatura che viene in laboratorio simulata con gli articolatori, ok, entro e batte laboratorio o articolatore a parametri individuali, da, da, aduce, ora ce lo porta e ve lo faccio vedere un articolatore, questi sono parametri tecnici che però sono molto importanti, laboratorio dentale in sede, è importante? Tu immaginati se ti devo fare la pizza, è ciò che mi fa la pizza dall'altra parte della città, però te la devo consegnare tra un'ora, si te la consegno, se però c'è qualcosa da correggere tipo il tempo di cottura, così te la prendi. C'abbiamo anche quello, sono tanti i punti, utilizzo microscopio in laboratorio, è importantissimo, noi se andate sul laboratorio vedrete sul bancone sulla destra che lì c'è un microscopio che ci serve per verificare i margini di chiusura dove sigillano i denti, marca degli impianti dentali, è importante? Ni, la differenza tra un impianto dentale di ipermarca tipo barilla e un impianto intermedio, 1%, non è così importante, molto più importante come lo metti, dove lo metti e se lo metti nel momento giusto che l'osso è pronto ad attecchire, quello è molto più importante e soprattutto è importante come attacchi i denti, io metto il migliore impianto ma i denti poi sopra sono incollati, è un problema grosso, se invece io ho un impianto intermedio ma che ha le connessioni, gli multi unit abatment, quello nel 99% dei casi integra, osteointegra e sopra ho delle connessioni che posso intervenire svitando e ci sono soprattutto, vi farò vedere, ne ho fatto uno qua di preventivo, andiamo solo quelli ricevuti agosto, mi pare che fosse questo, devo andare nella cartella dove stavo prima, preventivi, no, drive, referti, li mettiamo in ordine di data, c'è una lastra che ho ricevuto questi giorni, che è interessante proprio per farvi vedere cosa non va fatto, ah perché la devo ancora refertare proprio fresca fresca, ce l'ho, video referti, opt qua, eccola, questo è un errore gravissimo, ci sono tanti errori qua all'interno della bocca, gli errori di questa radiografia non lo so chi è il paziente, perché io non le conosco le persone, a me arrivano le lastre e mi chiedono mi dai un parere, mi arrivano tante di lastre, poi arriva il paziente e mi dice, ah ma dalla lastra non hai visto, ne vedo tante ogni giorno le lastre, ma se non ti visito, se non vedo il colore dei tessuti, quanto sonda, se si muovono i denti, quale ti fa male, dalla lastra non si vede, se c'è sanguinamento, io non lo vedo, la lingua la vedi? no, le gengive non si vedono, le labbra non si vedono, come sta messa la mandibola rispetto alla mascella non si vede, se apre o non apre il paziente non si vede, la dinamica non si vede, è come dire, fammi diagnosi di raffreddore oppure di trapianto, che ne so, è una radiografia di un torace, devo fare l'esame obiettivo, ti devo interrogare, fare l'anamnesi medica, quello è il modo corretto poi di arrivare a un preventivo, quindi la prima grande problematica che c'è nel scegliere dove curarsi è il fatto che non si può fare diagnosi a distanza, non si può dire a un paziente esattamente qual è il preventivo, questo è il motivo per cui avete tra le mani tanti prezzi diversi, perché si brancola nel buio sinché non fai una visita, sinché non fai una visita io non ti posso dire esattamente quello che va fatto, voi provate a immaginare se io sono disonesto, ti ho detto questa a distanza, tu vieni qua, non ho tempo da perdere, dai facciamo questo, sto facendo bene o sto facendo male? Se ti dico ok, facciamo comunque questo, perché se devi fare di meno ti sto facendo di più, ma se devi fare di più ti sto facendo di meno, quindi se ti faccio di più ti ho mutilato, se ti faccio di meno tra un anno stai tornando a riniziare a rifare tutto perché crolla tutto, ed è quello che succede spesso in casi come questi, questo è un paziente che se notate ci sono tante forme di impianti dentali diversi, cosa significa? Che ha visto diversi dentisti, ha visto diversi dentisti per quale motivo? Non è che sbagliava dentista, sbagliava l'approccio al dentista, non faceva un piano di cura integrale, tappava un buco, se ne apriva un altro, tappava quel buco, se ne apriva un altro, metteva impianti su quel lato, non togliendo i denti in parodontite vanno in perimplantite, l'osso si è ritirata qua, l'osso si è ritirato per quale motivo? Perché c'aveva la piorrea, ok l'osso è finito qua, perché c'aveva la piorrea non curata, oppure perché gli sono stati messi gli impianti con la piorrea? Cambia la domanda, perché gli sono stati messi gli impianti con la piorrea? Oppure perché non ha voluto mettere gli impianti quando dovevano essere messi? Oppure non ha voluto togliere i denti, ha voluto mantenerli con la piorrea, possono essere diverse, secondo me la causa non è neanche questa, ma ve l'ho detto a inizio della lezione, che è a pagamento il dentista, se ha pagamento fai quello che riesci a fare, conflitto di interesse, se uno ti cura in maniera parziale sta facendo bene o sta facendo male quel medico? Ti sta fregando i soldi? Ma non te li sta fregando il medico, la metà te li sta fregando lo Stato di nuovo, ok, torniamo a bomba, lì chi è che te li deve dare i soldi, se tu sei medico? Lo Stato, lo Stato sveglio tutta la notte a leggere il libro, sapevo, ieri notte io alle due pensavo che tu l'avresti letto, per quello che te ne sia andato ieri, fatto bene, io di queste cose parlo sul libro, la domanda che c'è nel libro è il dentista europeo gratuito, ecco come dovrebbe essere. Posso fare un intervento, visto che ho tirato fuori il libro, la cosa che mi ha, a parte tutto il libro, ma che mi ha entusiasmato di più perché ho toccato con mano, a marzo quando ero qua, in aereo, ho in fianco due ragazzi, due giovanotti, diciamo e vent'anni erano, mi sa parlare di dove sei, di tutta, uno era pugliese, l'altro non mi ricordo, dico, come siete? E dice, siamo a Clusci, in Romania, dico, cosa fate? E dice, studiamo, perché il nostro papà è dentista in Puglia e dice, e allora mi sono collegato alla tua cosa, che tu probabilmente sul libro dici che il dottore italiano, diciamo, come per mondare a curanti, ma quelle sono bestie, usano materiale schifosistico, poi però manda il figlio qua a studiare, quale ti curerà in Italia con la laurea rumena, albanese o quello che è. La verità è che lì la ragione non ce l'ha chi ti dice, chi ti fa il cartello, protezionismo e terrorismo, perché medico sardo o lombardo, non c'è differenza, o londinese o new yorkese. Sì, quello che è, è cartello quello, quello è cartello perché non puoi dire questo, se tu ti leggi, c'è il codice deontologico, ok, medico, dove il medico per esempio non ti può negare le cure, avete mai sentito dire se ti curi all'estero non metteranno mai le mani sulla tua bocca? Quello è omissione di soccorso, dovrei levarti la licenza medica, scusa, è come dire, ti sei tagliato già i capelli da un altro parrucchiere, io non te li taglio, invece la verità è che abbiamo cambiato un sacco di parrucchieri, come voi avete cambiato un sacco di dentisti, nessun dentista si è mai rifiutato di curarvi, aprivate la bocca e già avevate capsule, già avevate devitalizzazione in bocca, questo è un paziente dove se l'occhio è inesperto non vede tante cose qua che sono da denuncia, la prima sono intanto, vedete qua, un impianto dentale connesso con una radice naturale, perché non si può fare questo? Perché la radice naturale qua è uno spazio nero, questa linea nera che è il legamento parodontale, un ammortizzatore, i denti, perché sentiamo un capello tra i denti? Perché quel dente quando mordiamo si muove leggermente, stira le fibre e dà il feedback al cervello che si è mosso e quindi abbiamo la propriocezione, si chiama la tattilità, questo movimento in più se l'osso si ritira, l'osso stava qua e si è ritirato qua, il dente muove di più, se il dente muove di più questa è una leva che da qualche parte scarica, o si rompe qua, o si rompe qua, o si stacca qua, o peggio si rompe la vite, può succedere anche che si rompe la vite, questa è una vite monoblocco degli anni 70, queste sono viti di garbaccio, si chiamano, sono i primi impianti che venivano fatti questi, sono monofasici, significa un unico chiodo avvitato, sopra si incolla il ponte, questo non ha all'interno la connessione, la vite, che serve invece ad attaccare multi unit abatment, qua gli sono stati messi impianti dentali a livello della gengiva e questo non va mai fatto su un paziente che perderà i denti, questo è un paziente che aveva una parodontite, non devi mettere quei tipi di impianti, ci sono due tipologie di impianti, questa bone level e gummy level, tissue level si chiamano, questa è la gengiva, tessuto gengivale, la disegniamo bene la gengiva, facciamo così, la gengiva in genere è festonata, tu perdi, sopra c'hai un dente, qua un dente qui, qua, qua e qua, ok? Vedete bene? Un impianto, una vite che sta qua, queste sono le spire dell'impianto e ho un impianto a livello con l'osso, bone, si dice in inglese osso, bone level, a livello dell'osso, per esempio un impianto qua a livello dell'osso è questo, la vite finisce qua, questo è un impianto bone level, quando un paziente perderà tutti i denti bisogna usare questi, gli impianti, perché sopra questi posso montare i multi unit abatment, che sono gli snodi che permettono di unire tra loro molti impianti, se io perdo un solo dente, posso usare invece, come in questo caso, in realtà un impianto che fuoriesce qua, col colletto, a livello della gengiva, tissue level, si chiama, a livello tessutale, che sarebbe il primo qua sotto, questo qua è un tissue level, esce dall'osso, la spira finisce a livello dell'osso, poi va oltre, qua c'è la gengiva in realtà dove c'è il nero, e qua esce questo, perché ha fatto l'errore? Perché ha fatto l'errore qua? Perché aveva già perso altri impianti, altri denti, tantissimi denti, e questi sono gli ultimi denti che hanno messo, perché sono gli ultimi denti che hanno messo? Perché sopra non c'hanno niente, non è che non c'hanno niente, c'hai i denti provvisori, quindi se c'hai provvisori sono gli ultimi che hai fatto, chi te li ha messi gli ultimi ti ha messo degli strauman costosi, rubandoti soldi, perché te li ha messi con l'ottica non di curare la foresta, ma di curare l'albero, ti metto questa zona, ma la realtà è che ora questi impianti sono imperimplantite, stai perdendo l'osso, qua sta perdendo osso, qui ha imperimplantite diffusa, dovrò svitare via tutti gli impianti, carottare via questi impianti, carottare lì, ricostruttiva ossea, dopo la ricostruttiva ossea si parlerà dopo sei mesi di iniziare a pianificare dove mettere gli impianti, questa è una chirurgia terziaria questa, molto complicata, molto complicato rispetto alla mia, attuera semplice, questo è come il naso di Michael Jackson, ok qua è stata fatta una chirurgia già fatta male, un'altra fatta male, un'altra fatta male, ora siamo a livello di chirurgia terziaria, è probabile qua che dovremmo fare ricostruttiva ossea con blocchi, con prelievi, chirurgia molto più avanzata questa, ma perché si arriva in questo stadio? Torniamo a Valanga, da dove è iniziata la storia e poi chi è intervenuto magari ha dovuto tenere fede a un preventivo fatto a distanza, io ti ho fatto un preventivo a distanza, non volevo la recensione negativa su Facebook, ti faccio quello che ti ho detto a distanza, noi pazienti così non li curiamo, perché poi sono dei boomerang, girano le nostre radiografie e di cose del genere, io invece potrei ora farmi dire chi è che ti ha fatto queste cose, non direi il falso, non direi, direi semplicemente fate attenzione che i piani curati a tappare un buco poi si danneggia dal punto di vista biologico il paziente e si ritrova veramente sfregiato, rischia anche di non poter fare granché qua, fortunatamente ne ha messi pochi da questo lato, posso mettere un impianto qua, uno qua e uno qua, svito questi, bypasso, svito tutti questi, ricostruzione e poi metterò altri tre impianti qua, estrazione strategica di questo e metto un impianto nella zona retromolare e mi sfrutto quell'osso che è stato mantenuto dal dente del giudizio, qua, posso mettere, non ha senso, in Europa, noi in Italia, ho un'amica sicura, così, una volta un pezzo, un altro pezzo, quando ci chiedono noi mi fate avere un preventivo a distanza, no ma io voglio il preventivo, poi decido, il preventivo non esiste a distanza, se non fai la diagnosi, viene poi da noi esattamente, vediamo quello che c'è da fare, il gioco, ma intanto quello è un primo filtro, perché io devo perdere tempo con una persona che crede a Babbo Natale, noi vogliamo lavorare con pazienti che sono un po' più seri, che capiscono che il problema è serio e va affrontato in maniera seria, non stai al mercato a comprare zucchine, che stiamo qua a risolvere problemi molto gravi dove prima di tutto bisogna fare una diagnosi corretta, raccogliere i dati in prima persona, la verità è che un preventivo finale neanche si può fare al primo viaggio, perché non sapremo come guarirà l'osso, quanti impianti rimarranno, quanti invece ne perderemo, ci abbiamo in linea di massima, noi come obbligo quello di fare tutte le cure, fare più anche di quello che serve, leggermente tagliamo un po' più largo e mettiamo più impianti di quelli anche che servirebbero, perché se c'è un imprevisto il paziente comunque esce dal labirinto, se invece partiamo con poche cose, molto risicate, è difficile poi fare scelte differenti, è meglio togliere dal preventivo che aggiungere, se il paziente non può partire con quel preventivo meglio che neanche inizia, perché se no c'è il rischio di avere un vicolo cieco, come questo ci è finito magari diverse volte, ora si rivolge magari all'estero a noi perché ha iniziato a documentarsi tanto e ha iniziato a cercare dei centri di chirurgia terziaria che fanno quindi zigomatici, che fanno magari ptericoidei, impianti che sono un pochino non convenzionali, che vengono dopo, però quelli non ci arrivi per esempio con il volantino per esempio di una catena franchising, ricordate che i franchising non fanno chirurgie terziarie, loro fanno pulizie, ponti, ponticelli, si fermano a un certo tipo di lavori, non vanno oltre, per questi è come dire c'è un franchising di centri trappianti di fegato, centri trappianti di fegato sono pochi in Europa, sono quelli, puoi fare un franchising in ogni città un centro trappianti, perché non c'è la richiesta, non sostieni, non ci sarebbe la richiesta del servizio, c'è più richiesta della pulizia dei denti, della capsula, della devitalizzazione, ticket medio di un franchising famoso è 2.600 Euro, era nel 2012, 2.600, 2.700 in Italia, cosa è 2.600, 2.700 Euro in Italia? Un ponte di tre denti, quattro, quello ti dice qual è la tipologia media che fanno di trattamento, un trattamento di questo tipo in Italia sono 50.000, non esiste un franchising che ha un ticket medio di 50.000, ok? Noi siamo un tipo di struttura che ha quel ticket medio, ma perché siamo una struttura specialistica, che facciamo solo questi tipi di ricostruttive, ma per questi tipi di ricostruttive ci sono alcune strutture che non sono attrezzate, perché per questi tipi di ricostruttive arrivare magari a quel lavoro là che avete la linea superior, serve innanzitutto una diagnosi seria corretta, poi servono attrezzature, laboratorio e in più fatti all'estero servono tutti questi parametri che per anni avevo raccolto, ok? Noi perché abbiamo avuto successo? Perché non c'era stato nessuno che avesse fatto una raccolta esatta di quello che bisognava fare. Io ho fatto semplicemente anni fa la ricerca di mercato più estesa che fosse mai stata fatta sulle cure odontoiatriche all'estero, come vanno fatte, come si evitano i problemi? Devi fare questo, devi avere questo, devi avere il laboratorio, devi avere il centro di assistenza, devi essere monofocalizzato, non puoi fare minestre, pesce e carne, devi scegliere un tipo di trattamento e fare solo quello, non posso fare ortodonzia, ponti e devitalizzazioni, quello, quello, quell'altro. Lavorare in cluster, un'altra cosa di cui parliamo sempre, lavoriamo in cluster, maxillo facciale tutto il giorno, non fa protesista di mattina, sera, maxillo facciale, suddivisione dei ruoli. Una cosa, dalla mattina a sera, quando tu fai una cosa ti iper specializzi in quello e hai un team che riesce a fare che cosa la Ferrari, una persona da sola, io non riuscirei a fare la linea superior o a finire un caso, come invece lo riesce a finire un team di 6-10 persone, in realtà ognuno di voi ha un progetto dove sono entrate almeno 12 persone dentro per finirlo, dai almeno 3-4 tecnici di laboratorio, almeno 2 tra chirurghi protesisti e magari anche generalista, più c'è l'aspetto logistico di preparazione, ci sarà l'aftercare e più c'è anche tutta l'informazione prima, il primo contatto, poi c'è il contatto dopo, poi dopo c'è il rientro, la ripianificazione del rientro e andare a iniziare a lavorare sui lavori successivi definitivi, che non è lo stesso laboratorio che fa i provvisori, suddivisione dei compiti, mai un lavoro di squadra, è come dire che la Ferrari è stata fatta da un team, ci arrivi poi con anni di investimenti a creare che cosa un motore, la linea superior a cui siamo arrivati noi è il frutto di tutti questi anni di investimenti, tutti questi anni di investimenti, ricerca e sviluppo alla fine hanno culminato in quello, linea superior poi è il nostro vantaggio competitivo che non diamo a nessuno, noi in Moldavia linea superior non la facciamo per nessuno, la facciamo per noi, è un'acquisizione di know how che è come il segreto della Ferrari al Gran Premio, è che te la vendo per 1000 Euro, anni di investimenti, è una cosa che solo noi riusciamo a fare quella e neanche ognuno di noi riesce a farla da solo, riusciamo a farla solo qua in Moldavia e questo team riusciamo a farla, perché serve la telemedicina, serve la progettazione, serve la produzione, serve la diagnostica, serve la programmazione chirurgica e poi alla fine il dottore che rileva in un certo modo i parametri dal paziente, li trasmette al laboratorio, serve farne diverse, prima averne fatte tante per vedere cosa funziona e cosa non funziona, devo fare i controlli dopo le cure dove posso risolvere i problemi, personale parla italiano, è importante, immaginate se arrivi e parliamo in tutti i Moldavo, cosa ha detto? Togli, no ha detto tieni, togli, oppure grandezza dello studio è importante, ni, ni nel senso che se ci sono i numeri rispettati di figure essenziali, puoi anche essere essenziale, la verità è che se tu inizi a avere in realtà il numero dello studio dipende dal numero dei pazienti, possono essere tanti o pochi, dipende da quanti pazienti hai da produrre, se c'è un bilanciamento, è più importante il bilanciamento non la dimensione, fornitura telefono gratuito, cellulare locale, era importante, assistenza telefonica, è importante questo, gli anni di attività non puoi essere aperto da un anno perché non puoi aver accumulato tanta esperienza in riabilitazioni estreme come queste, queste ci siamo arrivati dopo anni a fare questo e ora ci fanno i complimenti, anche qua ci fanno i complimenti, ok? e iniziamo a fare ora divulgazione, a cambiare il modo di pensare anche dalle persone, l'Andi noi curiamo una malattia che è sociale, non vedo perché al pari delle altre non dovrebbe essere lo Stato a fornire le cure, iniziano a parlare la mia lingua, ok? li stiamo contagiando, così che inizia la rivoluzione, quando anche loro iniziano a ragionare così, e noi stiamo andando a battere laddove vengono fatte in Italia le protesi tipo le nostre, i lavori questi grossi, ci sono dentro tutti, ok? e lì iniziamo a influenzare, iniziamo a influenzare il costo dei materiali uguale, dove risparmi in affitti, immobili, stipendi, contributi, tasse, si gioca lo stesso gioco a due regole diverse, il problema non so i dentisti italiani, lo Stato, chi vuole lavorare bene se deve andare, ti distruggono, e alla fine c'è chi fa la lavatrice che sopravvive, perché fa riciclaggio, quello sta lì per riciclare, non perché fa, come si dice, ricavi, se ha olio ucchienit, ti faccio un esempio, io ho conosciuto un amico che forniva gli olio ucchienit, che vendevano il pesce in nero agli olio ucchienit, perché non lo vende all'altro? perché quello gli ho pagato a Black, prima lo vendate il pesce fresco, di contro mangi il pesce fresco lì piuttosto che da altre parti, perché quello c'è la convenienza a pagarglielo in quel modo, poi che cosa fa? Batte scontrino a parità di costo, ma intanto ha lavato, e queste sono moltissime le attività così, fate attenzione, ci sono molte attività in Europa, non parlo dell'Italia, in Italia non è così, ci sono molte attività in Europa dove si ricicla, e quindi ci sono clienti fantasma, dove i soldi sono entrati, sono stati depositati, ma in realtà il cliente non esiste, e poi quelli vanno in Lussemburgo, ma da dove che arrivano a Lussemburgo? attraverso una… queste attività in un paese marcio sopravvivono, chi invece voleva fare le cose per quello che ha studiato, che è l'eccellenza, se ne va a Dubai a fare lo chef, non faccio l'olio canite, non mi interessa fare l'olio canite, perché lui vince sempre, perché? Perché lui fa una lavatrice, vincerà sempre, vincerà, rispetto a te che vuoi fare il ristorante d'alta classe, perché a te le materie prime e poi il primo non te le dà, perché le dà a lui, che lui gli è pagabile, che tu gli chiedi la fattura, così che funziona, e gli hanno raccontato queste cose, ok? Io ho girato veramente tutta Europa, mi hanno chiesto anche contatti, in alcuni paesi di altre persone, io ho fatto inchiesta per due anni girando l'Europa e conosco tanti retroscena, e alla fine ti posso dire che in alcuni paesi il sistema è marcio, dove alla fine è una terra dei fuochi, tutta, è una terra dei fuochi, a livello di quello che mangi, a livello di plastiche, residui di oli, carburanti dentro all'olio, d'oliva, ok? C'è di tutto, perché chi deve controllare non controlla, in tasca alla fine è tutto un tumore, è tutto un carcinoma, tutti si ammalano perché non c'è, la plastica è dappertutto ormai, la plastica metaforicamente parlando. E allora cosa succede? Chi vincerà in tutto questo se la mafia in realtà è un modo di pensare, devi lottare contro il modo di pensare, quindi cambiare il mindset delle persone, da lì che è nata la divulgazione del film, del libro, cambiare il modo di pensare, come dovrebbe essere, ok? Eliminare il conflitto di interessi, fare la patente a punti, nel senso delinqui, fai i piani di cura errati, ti tolgo un punto, cinque punti, ti tolgo la licenza, non puoi più operare, come dovrebbe essere? Ma ci dovrebbero essere dei quality center, dei centri che controllano la qualità dei trattamenti che vengono eseguiti. Non ci sono, perché sono organi politici piuttosto, non sono organi di controllo della qualità dei trattamenti sui malati. Se io faccio per esempio in un paese immaginario un ordine dei medici, devo tutelare chi? Medici o i malati? No, nel mio paese immaginario devo tutelare i malati, quindi per me dovrebbe essere priorità che mi sveglio domattina, devo fare il quality center, la prima prima cosa che faccio, ok? Perché non può andare magari, se voglio tutelare i medici, che qualcuno dice che i miei medici non sono bravi, i miei medici fanno gli interessi dei malati, li controlliamo, anche li verifichiamo, non può essere invece stare lì a guardare a chi fa la pubblicità del prezzo. Ti sanziono perché hai fatto la pubblicità, ma sanzionami chi fa i trattamenti sbagliati, li stai controllando? No, stiamo perdendo tempo a controllare chi fa il cartellone stradale. Quando invece non si fa una opera di controllo gratuito su tutti i bambini che sono all'elementare, insegnare loro la prevenzione e pagare i medici per fare la prevenzione e non arrivare a stadi terminali come questi, questo è uno stadio terminale, è un ritrapianto questo, di un trapianto andato a male. Allora, e torniamo lì ai profughi, ok, i profughi convengono averli o non conviene averli? Per l'Italia conviene. Non l'Italia. Il malato conviene o il malato non conviene? La sanità è la seconda industria del paese, dopo la mafia. E se tu fai mafia più sanità, cosa hai? Mega business. Perché i soldi scompaiono dalla sanità? Perché quella è la prima fonte dove attinge? Perché andare a bussare tante porte? Entriamo in politica, distribuiamo i budget e poi da lì facciamo sparire. Servizio c'è? Poco, quello che serve, però se una bacinella butti acqua dentro, ma è sempre vuota sta bacinella. Ma se dovremmo fare una chissà delizio, da chi parte? Fuori topic, ne parleremo un altro giorno. Ci sarà un pacco, ci sarà che stiamo già organizzando, dove ci sarà praticamente il kit, idropulsore, scovolini, il libretto sull'igiene e ci saranno anche i controlli da fare semestrali e il pacco in abbonamento annuale per fare l'igiene. Ok, ci avremo i colleghi che in quelle città vi fanno la pulizia professionale, con degli strumenti appositi che vibrano, con una testina gommata che vanno a lucidare tutte le protesi. A novembre più stiamo anche andando a fare dei corsi a Lisbona proprio su questo. Ma il laser è qua? Col team. Il laser è acqua per i fiori, è una cosa che aiuta in più. Ma non è il... Fate attenzione con il laser perché c'è molta gente che ci fa molti soldi su alcune cose che poi in realtà sono delle cose che vanno usate assieme ad altre cose. Però io pubblicizzo solo questa, in realtà ti sto truffando perché non è quello che ti risolve il problema, ma è un concerto che suona insieme. Vediamo avanti, le lastre, torniamo qua. Quindi tornando a questo, io cose che avevo fatto qua, questi sono tutti i capitoli, eccetera, vediamo dove sta il libro, indice, libro, eccolo qua, mi sa che è proprio questo. Questo è un libro che non l'ha mai visto nessuno, ok? Perché non l'ha mai visto nessuno questo? Veramente è una cosa macchiavellica era. Perché mi ero reso conto che in realtà la domanda era sbagliata. Cioè la domanda che io mi ero fatto era sbagliata. Non puoi tu mettere nelle mani del paziente uno strumento così pericoloso. Perché c'è il paziente che rischia di prendere l'ucciole per lanterne con uno strumento di questo tipo. La responsabilità poi di quello che sceglie, perché magari gli ho detto sul libro devi guardare questo, questo piuttosto che... Io ho comparato però mi sono ammazzato. E' pericoloso. Stai dando delle indicazioni che potrebbero essere travisate, interpretate, oppure che potrebbero addirittura portare la persona a non curarsi. Se tu ti devi compilare tutta questa roba qua è probabile anche che ti blocchi. Quanti è che lo farebbero questo? Ti blocchi, ti spaventi, ottieni la... La soluzione era... Va creato. Semplificare significa andare a creare un sistema che è a prova di bomba. Che era, che è stato poi il risultato di tutti gli anni di ricerca. E il nostro successo è la prova, provata, che è quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in maniera... strategica, pensata, ragionata. Tutte le cose che voi vedete qua in azienda sono delle cose che ogni clinica mi aveva detto va fatta in questa maniera, perché? Due punti. Questo, questo, questo. Succederà questo, questo, questo. Questo e quest'altro. Loro ci avevano dato la ricetta esatta su come vanno fatte le cose. Il dipartimento logistico serve, l'assistenza after care serve, va potenziata l'assistenza after care. Le informazioni, i filtri iniziali servono. Essere in delle città a tassazione agevolata serve, perché non posso fare una impresa magari in un paese dove già le tasse stanno crescendo tanto, Croazio. La devi fare in un paese emergente. Allora a quel punto c'erano sole tre opzioni. Romania, Europa. Albania, percorso di ingresso in Europa. Moldavia, fuori da tutto. Svizzera. Svizzera. Perché significa che qua l'euro non arriverà mai. Albania, il processo sta già, i prezzi stanno già salendo. Ti ritrovi poi che già tra cinque anni sei come la Croazia. A livello di Croazia. Romania sono altissimi già i prezzi, perché è già in processo avanzato di integrazione con l'Europa. Sta già arrivando il cancro là. La Romania lavora tanto con i pazienti inglesi. La Romania, perché l'Inghilterra ha un impianto su 2.000 sterline, 2.500. C'è la convenienza ancora. Ma stanno salendo molto, sono tutti strozzati là. No, devi adeguare a livello normativo troppe cose. I bagni, uomini, donne. Devi fare una superficie di 100 metri, almeno 20 metri di bagni, se sei in Europa. C'è la iperlegislazione in Europa che qua non c'è fortunatamente. È un paese molto più scattante, snello. Io voglio fare una cosa, la faccio. In Italia devi sei mesi per la stessa cosa. Sei mesi in Italia. È meno competitivo, meno scattante. Questo alla fine non l'ho pubblicato perché dovevo realizzarlo. E allora andavo oltre e mi chiedevo, ok, realizziamo quello, ma lo scopo cos'è? Creare un policlinico o curare il male alla radice? Ho scritto l'altro di libro che andava a cambiare il mindset delle persone. Il dentista deve essere gratuito o a pagamento? Perché se tu vai a vedere, io qua stavo dando una guida, un how to sul problema, ma non sulla causa, cioè sull'effetto, non sulla causa. Invece il libro che ho pubblicato, l'altro, è stato il libro che realmente risponde al problema. Io tutti gli studi che ho fatto, tutti i giri che ho fatto, tutti i viaggi che ho fatto, ho ragione e pensavo, sono stati i viaggi più belli della mia vita perché li ho fatti in solitario, da solo, autofinanziamento completo. Ho conosciuto un sacco di persone, 3.000 euro sono partito dalla Sardegna. Tra l'altro un dentista neanche mi aveva più pagato. Ha detto, tieniteli quelli, dagli tutti all'Empam. Quando poi ho iniziato a conoscere persone in viaggio, fuori, veramente belle persone, loro mi hanno fatto capire che il problema era più grande qua, era un problema proprio di impostazione della sanità. I pazienti non sono terroristi quelli che vanno all'estero, sono pazienti che piuttosto non si fanno accoppare in Italia dall'età, dal fisco. Piuttosto dicono, invece che... No, è una questione di fiducia nell'ascoltare perché, per esempio, noi quando abbiamo scelto di venire qui, ho fatto il prezzo molto conveniente. Io poi ho detto, sai, sono arrivata qui che... L'abbiamo visto, il prezzo non è tutto, se non capisci che c'è dentro. E' la fiducia che comunque nel trasmettere informazioni, perché queste sono cose che divulti continuamente, perché bisogna avere anche la fiducia del dentista, non è così semplice. La parte è il motivo per cui uno si ammala, perché viene a mancare la fiducia per il conflitto di interesse. Se noi invece diciamo la verità, ovvero come sono le cose, c'è una regola che mi aveva insegnato Leo, un grande amico, questo in Roma, mi disse, non dire mai bugie a una donna. Perché? Tanto ti becca. Perché il cervello femminile è tarato per riconoscere 7000 combinazioni di esprezioni facciali. Ti riconosce, tu gli dici una balla, ti riconosce. Perché avrai un micro movimento che riconosco. La sudorazione, il colore, il timbro della voce, l'unico è non dirle mai le bugie quando parli con una donna. Stessa regola vale quando tu parli o su internet o parli con... Non mai dire le bugie, perché tanto prima o poi ti smascherano. Perché ce n'è talmente tanti di neuroni che non puoi controllare tutto. Dietro alla bugia c'è il sicuro fallimento. Quindi la nostra chiave, delle persone che poi mi hanno consigliato, è vuoi fare un'impresa di successo? Sì, limpido, sincero, non c'è cosa più semplice da fare. Semplicemente di le cose che pensi e ti attiri i membri nel team che la pensano come te. E ti tieni lontano quelli che non la pensano come te. Di come vanno le cose. Se sono troppo lunghe da spiegare, spezzale in capitoli, ok? In paragrafi, falle arrivare in tempi diversi. Però l'importante è che non dici le balle, non dici che sono denti come i denti naturali. Ti dico che sono denti artificiali. Se le cose si rompono, fai vedere che i denti si rompono. In un modo o nell'altro. Il vantaggio c'è quale? Che fai meno aftercare perché non li rompono. Poi, perché sono spaventati. Stai facendo in realtà del bene. A dire la verità, c'hai sempre da guadagnare. A livello di impresa, a livello di comunicazione mediatica, è sempre meglio che dici la verità. Perché la verità, se uno è sincero, te ne accorgi. Se uno dice la bugia, c'è il rischio che vieni preso per un pagliaccio. Che lo dice magari per venderti la macchina, l'automobile. Poi in realtà le prestazioni non erano quelle. Se c'è un work in progress, dici un work in progress. Non dire che è una cosa finita.